Un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale alla BCC di Pesaro perché ha deciso di investire nel nostro territorio, un territorio che vedeva la mancanza degli istituti di credito che precedentemente hanno vissuto sul nostro territorio, sui quali avevano investito e che purtroppo nell'ultimo periodo sono venuti meno, così a Monbaroccio come in tante realtà della provincia di Pesaro Rubino. Invece noi abbiamo avuto la fortuna di avere un istituto che ha creduto nel territorio e che ci trova mano nella mano a portare avanti quelle che sono le realtà, imprenditoriali, locali, private, affinché i territori non vengono depredati di quelli che sono punti nevralgici come quelli che sono gli istituti bancari, perché se si vuole dar vita ai piccoli borghi, alle piccole realtà, gli istituti di credito sono fondamentali per lo sviluppo degli stessi. Un'altra cosa fondamentale che la nostra banca, la banca di Pesaro, fa per la cittadinanza, in particolare per questo comune, di anche questo storico, molto vivo e pieno di iniziative, quindi che meritava tutto il nostro interesse e la nostra attenzione. È un'area, diciamo, self, nel senso che è operativa 24 su 24, come banco, materiali, versamenti, ma anche bonifici, ma noi siamo anche a disposizione per la consulenza, quindi se ci volete chiamare su appuntamento siamo ben disponibili a venire qui e aiutarvi per tutte le vostre esigenze. Ci tengo a sottolineare che tutto si può fare, nel senso che noi possiamo tranquillamente cambiare i conti correnti, facciamo tutto noi, voi non vi dovete preoccupare di nulla, che è tutto molto semplice e veloce e noi siamo a completa vostra disposizione. Diamo la possibilità, diciamo, agli abitanti di fare quasi tutte le operazioni di una filiale normale. Perché abbiamo fatto questo? Uno, per venire incontro a quelle necessità, di quei luoghi in cui le altre banche chiudono gli sportelli. Noi facciamo un tentativo, una prova, siamo sicuri che andrà a segno, perché la richiesta è stata proprio ben supportata dai cittadini, quando hanno saputo che l'avremmo fatto. Quindi la nostra intenzione è di provare a fare uno sportello di questo tipo per poi magari anche replicarlo su altri territori, sempre limitrofi alla nostra città, alla Banca di Pesaro, perché noi siamo territoriali e quindi dobbiamo dare un supporto alla cittadinanza del Comune di Pesaro e dei Comuni limitrofi.